guarda è almeno da più di un'ora che sto tentando di rastrellare tutta questa roba qua e viene fuori un casino di roba qui in mezzo all'erba che non ti dico ce n'è ancora però mi è rimasto questo questo angolino qua adesso vedi un sacco di roba c'è in mezzo porcherie tutto tutta sta robaccia vedi qua ancora c'è ancora qualche primasuglio che dovrò ancora finire perché l'idea è fare una linea e qui è dove ho bruciato l'altro giorno l'idea è di praticamente tirare una linea da qui dritto sino a questa piantina verde qua una linea dritta di modo che può dargli un limite a questo orticello e poi recuperare fin dove è possibile tutto il resto guarda i mucchi che ho fatto questi li porterò via con la carriola